Quando regali 55 minuti in un derby, al di là di chi sia la squadra dall'altra parte, in questo caso il Genoa, non puoi vincere la partita. Ci siamo risvegliati quando abbiamo preso il gol. Il gol del Genoa con Raffiglia, grandissima conclusione al minuto di gioco numero 10, festeggia sotto la gradinata nord il giocatore brasiliano. Raffiglia è un giocatore che ha delle qualità straordinarie perché ha intelligenza, ha abilità, ha anche un giocatore. Gamba rapida e veloce, quindi è un giocatore che ha tutte le qualità per fare bene. Abbiamo sbagliato i 50 minuti, il Genoa ha giocato meglio di noi. Non abbiamo messo in campo quelle cose che servono nel derby. Probabilmente se è troppa tensione, non lo so. La Sampo aveva un'occasione importante per cercare di svoltare in questo campionato qua. Invece fino al 55esimo che abbiamo preso il gol abbiamo fatto poco, molto poco per poter vincere la partita. Risultato finale a Marassi, Santoria 0, Genoa 1. Il Genoa sale a 32 punti e scavalca proprio i cugini duriani.